. 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 La conferma è un po' diversa, no? Sì. Senti, siamo a mangiare tre pupette, siamo a mangiare. Che? Siamo a mangiare tre pupette in una panza gira. Ah. Capi? In modo di mandare un messaggio, di conferma, aspetta proprio giusto dieci minuti. Ah. Va bene? Dieci minuti da città. Ma a mangiare un po' di morire? E io non ci sto. Ah. Vengo in mano, capito? Ah, ma tu non hai messaggi più specifici, capito? No, 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 sarò chiarissimo, sarò chiarissimo. Ok, ma a mangiare un po' di proprio. Dopo dieci minuti da aspettare io a lui. Eh, bene. Ciao, ciao. Bene, ciao, ciao. Ciao, ciao.